Penso che non era facile giocare bene palla a terra in un campo come questo, per quanto c'è stato possibile abbiamo giocato a pallone, abbiamo fatto delle buone triangolazioni, abbiamo fatto delle buone trame, abbiamo creato parecchie occasioni, sapevamo che l'Isene veniva qui non per fare una passeggiata ma aveva fame di punti, aveva detto ragazzi dovevamo partire molto molto forte perché altrimenti col passare dei minuti, l'avversario prendeva fiducia, il terreno di gioco peggiorava di minuto in minuto, quindi dovevamo essere bravi a cercare di mettere la partita subito sul binario giusto e così è stato.